È datata 27 luglio la lettera con cui il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, sollecita la regione Piemonte sul tema del nuovo ospedale domese. Che il primo cittadino di Domodossola avesse preso carta e penna per ricordare ai vertici di Piazza Castello gli impegni presi con l'Ossola non è una novità. Il sindaco lo ha detto nel corso dell'ultimo consiglio comunale la scorsa settimana. La volontà di renderla pubblica proprio oggi non deve essere casuale. Questa sera la sala polifunzionale di Piazza Rovereto, l'ex Cappella Mellerio, ospiterà l'atteso vertice di tutti i sindaci ossolani. Pizzi alla vigilia non ha avuto comunicazione di nessuna defezione. Una è certo ci sarà, è quella del sindaco di Vogogna. Marco Stefanetta infatti sarà impossibilitato a partecipare ma per precedenti e improrogabili impegni presi in passato. Per la conta bisognerà attendere le 21 di questa sera nel momento in cui i sindaci sfileranno nel centro storico domese per partecipare alla riunione che per volontà di Pizzi sarà a porte chiuse. Dunque Pizzi si è voluto affidare a un atto ufficiale per sollecitare la regione a riallacciare i nodi di un discorso che sembra essersi interrotto. Il sindaco di Domodossola chiede al governatore Alberto Cirio e al suo assessore Luigi Cardi l'attuazione delle promesse. La nuova lettera infatti accenna quella inviata allo scorso inverno e dunque alla bozza dell'accordo di programma che Comune e Regione dovranno sottoscrivere se realmente si vuole dare seguito a quanto promesso. Una proposta spiega Pizzi condivisa in maniera trasversale dai sindaci della Valle sulla base di enunciazioni della Regione. Secondo Lucio Pizzi se Torino si attiva e mantiene le sue promesse il nuovo ospedale potrà vedere la luce cinque anni dopo la sottoscrizione dell'accordo di programma.